eccoci nuovamente all'interno della sezione del mio sito dedicata alla programmazione plc in questo caso ancora in linguaggio ladder ci troviamo nelle software di programmazione cx programmer per i plc quindi omron e l'esempio che vediamo oggi è un piccolo programma che gestisce il riscaldamento per mezzo di una resistenza elettrica del liquido all'interno di un serbatoio questo impiantino lo vediamo in questa immagine e abbiamo un po di valvole alcune altre apparecchiature però quello che ci interessa è questo serbatoio chiamato t101 che contiene al suo interno una sonda di temperatura qui in basso chiamata tt101 quindi una sonda che legge la temperatura ed ha nel plc un valore 4 20 miliampere che poi trasformiamo naturalmente con una scalatura in un numero e la resistenza di riscaldamento chiamata r101 che cosa farà il sistema noi daremo un set point quindi un valore a cui vogliamo che la temperatura venga portata il sistema controllerà questa temperatura per mezzo della sonda tt101 attiverà e disattiverà il riscaldamento quindi quella resistenza elettrica per far funzionare meglio questa funzione forniremo al plc anche due valori di tolleranza rispetto al set point per la temperatura per esempio se vogliamo una temperatura di 50 gradi possiamo dire al sistema che la temperatura va bene finché siamo un grado più o meno quindi da 49 a 51 e all'interno di questo range la temperatura per noi va bene quando la temperatura scenderà sotto il limite inferiore 49 si attiva il riscaldamento e si spegnerà quando supererà il limite superiore quindi di 51 gradi naturalmente cambiando il set point cambieranno anche i valori limite che quindi inseguiranno il set point andiamo a vedere il programma ladder nella prima linea di programma andiamo a calcolare i famosi due limiti quindi quello inferiore e quello superiore infatti con queste istruzioni sottrazione floating quindi di tipo reale e addizione meno f più f sottraiamo la tolleranza che io ho impostato a 1 quindi un grado al set point e otteniamo il limite inferiore quindi da 57 il limite è 56 il limite superiore lo calcoliamo invece aggiungendo uno al set point e diventa 58 il sistema scalderà quando scendiamo sotto il 56 e fermerà il riscaldamento sopra il 58 abbiamo utilizzato questo bit generale abilitazione riscaldamento per far funzionare tutto quindi per escludere la funzione nella seconda linea di programma andiamo a confrontare il valore reale della temperatura che in questo momento è 13 gradi con il limite inferiore se è inferiore a 56 ecco che parte qui il nostro timer questo timer praticamente ha un set point impostato di 50 decimi di secondo quindi 5 secondi una volta che ha finito di contare qui sotto questo è il suo test con il contatto aperto questo si chiude quando il timer 000 ha finito di contare impostiamo quindi istruzione set il comando della resistenza mettiamo a 1 il comando della resistenza questa istruzione nei plc omron corrisponde alla famosa bobina latch o set per esempio dei plc allen bradley o siemens quindi le bobine con auto ritenuta in questa linea invece se la temperatura supera il valore superiore quindi in questo caso 58 abbiamo un altro timer il numero 1 sempre con un set point di 5 secondi che quando ha finito di contare qui sotto si chiude e resetta il comando della resistenza la resistenza viene anche spenta se disabilitiamo la funzione quindi se poniamo a zero il bit generale di questa funzione ora proviamo abilitiamo questo bit ecco che il timer qui sta contando perché abbiamo 13 gradi dopo 5 secondi ha acceso la resistenza lo vediamo anche qui sotto comando resistenza e a 1 qui abbiamo il nostro set point 57 limite minimo 56 massimo 58 temperatura 13 se ora impostiamo la temperatura la portiamo a 59 gradi ecco che parte il conteggio del secondo timer la resistenza è ancora accesa e ora si è spenta perché abbiamo superato il limite superiore se cambiamo il set point proviamo a mettere 64 gradi ecco che vengono ricalcolati gli altri due quindi due limiti 63 65 per cui adesso lui ha comandato la resistenza la spegnerà quando superiamo i 65 65 virgola 1 ecco che conta l'altro timer e il sistema spegne la resistenza ecco questo era un altro semplice programma in linguaggio ladder per vedere un pochettino come si programmano i plc omron ti ricordo che se vai sul mio sito potrai vedere poi tutti i miei corsi tutti i miei percorsi informativi quindi le mie proposte per imparare l'automazione industriale per imparare a programmare i plc e per imparare a programmare i pannelli operatori cma e sistemi scada ci vediamo presto e ti auguro buon lavoro e buono studio